Salve a tutti youtuber, qui è Vekene92 che vi parla, e sono in bestia di guida ufficiale per potervi spiegare come inserire i vostri video sul sito, ovviamente, di OtakuTube. Per prima cosa, andate sul riquadro in alto a sinistra, più nuovo, e scegliete Articolo. Andate a scegliere su YouTube il video che avete intenzione di inserire su OtakuTube. E, attenzione, dovete copiare questo link, non è il link che vi dà il vostro bronzer. O l'ha di Mindy Tour, non mi potrà accettare il video. Bene, fatto questo, copiate il link nelle tre caselle che vi si presentano, inserite il titolo e una descrizione. Scegliete in quale categoria presentarlo, comprese alle sottocategorie. Ah, e ovviamente non dimenticatevi i tag per distinguere tra i numerosi video e per essere ricercati con più facilità dei motori di ricerca. Poi, andiamo a vedere la miniatura da far vedere in anteprima al nostro video. Si può scegliere la miniatura che gli ultimi utenti hanno inserito o caricarne una vostra. In questo caso, io andrò a caricare una mia miniatura personalizzata. Mandate la richiesta a datemi e aspettate il suo risponso. Sono molto presenti e affidabili. Vi manderanno una notifica o un'email in tempi molto brevi. E poi, gustatevi e sfumate il vostro video. Se la guida vi è piaciuta, mettete un bel voto e commentate. Qui il vostro perché non da due dal canale YouTube di Gamer Testapazzo. Buona giornata! Grazie! Grazie! Grazie!